Una sagoma scura, affogata in un mantello lacero e consunto, a cavallo di una bici sgangherata che arranca sui pedali per tutta la diocesi, sospinto dallo spirito di carità e amore e che trova il tempo per tutti e per tutto, come portare conforto ai bisognosi, ai poveri, ai derelitti donare una parola di conforto e di amicizia a chi soffre, oppure accompagnare i bambini in montagna Questa personalità così forte, così potente e ancora presente e viva nella memoria di chi ha condiviso il suo sacerdozio è stato Don Achille Sanchioni Parenti, amici, parocchiani, costituiti nell'associazione Amici di Don Achille vogliono che tutto questo capitale di amore e carità non vada dimenticato ma anzi sia il fondamento di una comunità cristiana nel suo ricordo e per questo, venerdì 7 ottobre, hanno organizzato una serata per rivivere la sua storia Don Achille è stato per la città di Fano, per i parrocchiani e per i non parrocchiani non solo il prete buono, ma il prete generoso, il prete affezionato, l'amico, il confidente egli era presente sempre, dappertutto e noi non riusciamo a capire come potesse fare era presente sempre ed era un prete di una carità infinita lui non teneva niente per sé Ma tutto il comitato, oltre che adoperarsi per la collocazione in uno spazio pubblico di una sua statua vuole farsi promotore presso il Vescovo Trasarti di una causa ben precisa Abbiamo il desiderio, l'intenzione di chiedere al Vescovo che valutata la vita di Don Achille, le opere di misericordia di questo sacerdote dia inizio ad una causa di beatificazione per portarla agli onori dell'altare Don Achille ha sempre donato tutto ciò che aveva ai poveri, ai bisognosi vivendo con poco e rifiutando anche di farsi un abito talare nuovo dando i soldi raccolti dai parrocchiani in opere di carità questo era Don Achille Don Achille era un uomo semplice uno che viveva anche nel mangiare con una minestrina, lui un pezzo di pane la mela sempre, mattina e sera una fettina di prosciutto e così poi l'abito talare tutto mezzo sgangherato le scarpe con i buchi andava via sempre così insomma